Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, tante le novità dalla città e dalla provincia, tanta anche la cronaca che dovremo affrontare a breve, ma parleremo anche di sanità con diverse novità all'orizzonte, poi parleremo anche di economia e politica, ma parleremo anche di SPAL perché c'è stato l'esonero di Di Carlo nelle scorse ore, è già arrivato il nuovo allenatore dei Biancozzurri che è Colucci, sentiremo Alessandro Sovrani nel corso del telegiornale, ma partiamo con la cronaca e con l'omicidio del Big Town, le indagini degli inquirenti vanno avanti per far luce sull'omicidio di Davide Buzzi, avvenuto a inizio settembre nel locale in cui è martedì, a metà giornata per cause in corso d'accertamento è stato rotto il vetro della porta d'ingresso, probabilmente preso a calci da uno o più ignoti intervenuti i carabinieri per raccogliere dettagli su quanto avvenuto sul luogo del del diritto che risulta attualmente recintato e ancora sotto sequestro per raccogliere le prove, una vicenda che continua a lasciare strascichi, come sappiamo l'omicidio del Big Town è stato l'epilogo di una serie di casi su cui si sta ancora indagando, partiti dopo la morte del 19enne Edoardo Bovini a metà agosto. E torneremo ovviamente a parlare di questo, ma ora cambiamo argomento, si è presentato alla stampa martedì mattina il nuovo prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello, un ritorno per lui che definisce la città estense, la sua casa, tanto il lavoro che lo aspetta, ecco i temi che ritiene più importanti. Gad, accoglienza migranti e sicurezza, ma anche una prefettura sempre più aperta alla città, questa l'agenda insieme ad altre altre priorità che riguardano il territorio estense del neoprefetto Massimo Marchesiello, che torna a Ferrara dopo 12 anni, quando lasciò il ruolo di viceprefetto vicario per una lunga carriera in giro per l'Italia, le ultime esperienze in Friuli, a Gorizia e poi Udine. Marchesiello è tornato a Ferrara in una città in cui c'è molto da fare, il tema più d'attualità la gestione degli immigrati sul territorio estense, che ha detto non è in sofferenza, e poi la sicurezza, l'obiettivo è implementare la videosorveglianza e continuare a monitorare il Gad dove si sta lavorando bene, aggiunto, altro obiettivo combattere le violenze domestiche con il coinvolgimento anche dell'ordine dei medici e degli infermieri, l'invito che il prefetto fa ai cittadini è segnalare sempre alle forze dell'ordine. E poi la lotta alle truffe e rilanciare la campagna di sensibilizzazione nelle scuole sulla sicurezza stradale. Sulla immigrazione è il tema attuale a tutti i livelli, su cui sicuramente anche incontrerò a breve gli enti gestori per avere un confronto e un dialogo franco e sincero. Ovviamente con i sindaci farò tanti interventi, tante conoscenze del territorio, ma che io avevo già comunque in camera. E poi sicuramente la cosa su cui mi farà piacere molto lavorare è la possibilità di avere la prefettura come luogo aperto al pubblico, alla cittadinanza anche con eventi di rilievo e comunque un luogo centrale in tutto il sistema anche delle amministrazioni pubbliche come deve essere perché comunque l'ufficio del governo è questo. Un ritorno a casa insomma per Marchesiello dopo l'esperienza pluriennale in prefettura a Ferrara più di dieci anni fa. Riparto da zero praticamente perché comunque al di là del fatto che tante iniziative e tante persone l'ho ritrovato sia all'esterno che all'interno con piacere, quindi da un certo punto di vista sono avvantaggiato. Non ho quel periodo di ambientamento che comunque molti colleghi devono avere, però tante cose sono cambiate. Ovviamente parte anche ripartire con l'amministrazione comunale è diversa e su cui abbiamo già condiviso alcune linee di intervento e di potenziale criticità del territorio. Però al di là della conoscenza anche delle forze dell'ordine ovviamente sono cambiate nel frattempo ma abbiamo già visto e riconsiderato alcune situazioni che tutto questo ho trovato comunque in coesione, in armonia e che è il dato di fatto che a me interessa e interesserà. Sanità e salute ora autunno rosa 2023, presentate martedì mattina le iniziative sul territorio ferrarese. Molte iniziative tanto da sforare a novembre, così l'ottobre rosa diventa l'autunno rosa, presentata la campagna di sensibilizzazione sul tumore alla mammella organizzato dalle due aziende sanitarie ferraresi in collaborazione con il comune di Ferrara e le associazioni di volontariato tra cui Andos. All'incontro erano presenti tra gli altri Monica Calamai, direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi, la quale ha sottolineato come il tumore, quello della mammella, è ancora il principale per incidente nelle donne. Grazie a controlli periodici e i programmi di screening sarebbe ridotta la mortalità complessiva del 56% rispetto a chi non si sottopone a screening e sconfiggere il cancro alla mammella diagnosticato in fase iniziale nel 90% dei casi. Diversi temi oggetto delle attività di quest'anno, dalla vaccinazione HPV alle visite gratuite, alle camminate e iniziative culturali, tra le novità il Bradei, una giornata di informazione rivolta alla popolazione femminile per parlare di tecniche di ricostruzione mammaria, di grande impatto emotivo e significativo anche la mostra cicatrici che diventerà permanente alla cittadella San Rocco. Calamai che ha sottolineato poi la partenza di due nuovi progetti, l'ambulatorio di dei service a San Rocco e il progetto OnConnect dedicato all'oncologia territoriale. Covid consegnate in Emilia Romagna le prime dosi di vaccino Pfizer, aggiornato per le nuove varianti, priorità a soggetti residenti nelle CRA, RSA e agli operatori sanitari e sociosanitari. Poi dal 16 di ottobre vaccinazioni al via per tutto il resto della popolazione, ovviamente sempre con i più fragili al primo posto e al via anche l'anti-influenzale sempre a metà ottobre. Sentiamo. Arrivate in regione Emilia Romagna le prime 60.000 dosi di vaccino anti-Covid monovalente adattato alla variante XBB 1.5, a partire dal 16 ottobre sarà possibile vaccinarsi contro il Covid attraverso i consueti canali medici di medicina generale, pediatrie di comunità, farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna vaccinale e nelle varie sedi individuate sul territorio, in tutte le province, ad esempio case delle comunità, ospedali e poliambulatori. La vaccinazione sarà preferibilmente somministrata, è stato detto dalla regione, in contemporanea con la vaccinazione anti-influenzale. E sono tante le figure della sanità che accanto ai medici possono essere di aiuto per i malati cronici, fra questi l'infermiere di famiglia e comunità che è stato istituito e formato appositamente per fare elemento di congiunzione tra i diversi ruoli, come ci dice la dottoressa Alice Ferri, tra le prime a operare a Ferrara con questa qualifica. Sentiamo. Mi dica quali sono le figure con cui lei si relaziona di più rispetto ad un suo paziente. È uno degli aspetti probabilmente più belli e stimolanti anche dal punto di vista professionale e anche proprio come completezza di presa in carico. Il fatto proprio che ci relazioniamo con davvero un numero incredibile diversificato di figure, insomma, sia dell'ambito sanitario ma anche dell'ambito sociale. Quindi noi collaboriamo sicuramente innanzitutto con i medici di medicina generale che chiaramente sono i riferimenti per quanto riguarda la cura dei nostri utenti e poi anche con professionisti dell'area sociale come gli assistenti sociali, gli educatori. Lavoriamo con gli psicologi, anche con i coleghi fisioterapisti, dietisti, logopedisti, i farmacisti e anche con i rappresentanti e chi fa parte delle associazioni di volontariato che davvero creano delle bellissime, si creano davvero delle bellissime relazioni e si riescono a instaurare davvero dei bellissimi canali, insomma, anche con i nostri pazienti. Ci sono dei momenti in cui vi riunite tutti? Ci sono, sì, soprattutto devo dire la verità per ciò che riguarda i casi più complessi da un punto di vista clinico assistenziale, però effettivamente abbiamo dei momenti in cui facciamo degli incontri di equip, possiamo dire così, dove appunto presenziano, faccio degli esempi, il medico di medicina generale, l'assistente sociale oppure l'amministratore di sostegno, insomma, le figure diciamo che comunque si occupano di vari aspetti di quella che è la vita, insomma, del nostro utente. E ora ci spostiamo in provincia di Rovigo a Melara, dove in una fabbrica di fuochi d'artificio la parente Fireworks, dove c'è stata una violenta esplosione, un ferito lieve e molta paura. L'azienda, leader nel settore pirotecnico mondiale, aveva curato anche diverse edizioni dell'incendio del Castello Estense in occasione del Capodanno a Ferrara. L'esplosione martedì mattina verso mezzogiorno nella fabbrica di fuochi d'artificio in via Oberdan a Melara, in provincia di Rovigo. In fiamme un deposito della ditta pirotecnica apparente Fireworks. La deflagrazione ha ferito in maniera lieve un operaio che ha riportato ustioni diffuse su varie parti del corpo. L'uomo è stato visitato sul posto e poi trasportato in elissoccorso all'ospedale di Verona, nel reparto specializzato per la cura dei pazienti ustionati. Il fortissimo boato dell'esplosione è stato sentito nei territori dei comuni adiacenti, non solo nel Rodigino ma anche nel Mantovano e nel Veronese. La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Le cause dell'accaduto sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco di Castelmassa, intervenuti con una squadra e due autobotti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. I pompieri sono rimasti a lavoro per ore con l'obiettivo di raffreddare l'area coinvolta dalla deflagrazione che è stata completamente distrutta. Sul posto anche i carabinieri di Castelmassa e Bergantino, l'ambulanza del SUEM dell'ospedale di Trecenta e i tecnici dell'ospedale dell'ULS Polesana. L'azienda parente Fireworks appartiene a grandi imprenditori del settore pirotecnico mondiale proveniente dalla Puglia. La famiglia parente è giunta nel dopoguerra nell'area di Milare Bergantino, dove è nato proprio qui il distretto della Giostra. Con i suoi fuochi d'artificio, l'apparente Fireworks aveva curato diverse edizioni del tradizionale incendio del Castello Estense di Ferrara in occasione della notte di San Silvestro in Piazza Castello. Ancora chiusura di filiali per Biper, il gruppo che ha rilevato la ex carife. La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è arrivata la conferma della chiusura della filiale di Lago Santo. ne abbiamo parlato con Samuel Paganini, segretario generale Fisac CGL Ferrara. Samuel Paganini, segretario generale di Fisac CGL. Ci sono novità per quanto concerne Biper e anche la situazione su Ferrara e la provincia Estense. Biper, lo ricordiamo che ha rilevato poi l'ex carife in diverse zone della città, ma soprattutto della provincia. Qual è la situazione e cosa sta succedendo? Allora, diciamo che la notizia è intanto a livello nazionale che Biper ha chiuso 100 filiali a livello nazionale e in modo più delicato su Ferrara ne ha chiusa nella provincia di Ferrara solo una. Quindi notizia negativa e positiva nello stesso tempo. Negativa perché quando chiude una filiale sicuramente un territorio si impoverisce. Se pensiamo poi al Basso Ferrarese, area interna, territorio che ha bisogno di credito, di sostegno, soprattutto in questa fase difficile, chiude una filiale nel Basso Ferrarese a Lago Santo. Non è sicuramente un elemento che rinforza la nostra provincia. Positiva, tra virgolette, anche lì perché in passato Biper ha chiuso pesantemente altre filiali e questa volta è andata un po' più delicata. A testimonianza forse che tutto sommato il Ferrarese non è da buttare via. In altre realtà ne ha chiuso parecchi di filiali anche questo giro. Voi in questi anni avete fatto specifiche richieste a Biper anche per rinforzare un po' l'anima economica turistica della città, chiedendo proprio l'apertura di sportelli in zone strategiche della città e non solo della città. Qual è la situazione? Soprattutto ricordiamo qual era la vostra richiesta. La vostra richiesta era, se volete, di continuare a mantenere un presidio forte, sia nella provincia come dicevo prima, ma anche nella città. Ferrare è una città appunto a vocazione turistica come dissi un'altra volta, non ha un bancomat in stazione. A Ponte Lago Scuro la filiale è stata chiusa e hanno già tolto il bancomat, quindi se volete c'è anche un'esigenza di presidio un po' più forte, un po' più territoriale su questa città. Non siamo tutti digitali, non abbiamo tutti il telefonino per pagare col telefonino a Ferrara e il ferrarese in realtà ha una popolazione un po' anziana e quindi non sono appunto tutti avesse a usare gli strumenti informatici. E quindi un presidio di banche fisiche, di filiali fisiche, scusate, di bancomat serve. Ed è questo che continuiamo a difendere per il nostro territorio. Non sono finite le chiusure. nel 2024 e nel 2025 Biper procederà a altre 200 chiusure a livello nazionale. E quindi la forza del nostro territorio, ribadisco con i suoi attori economici e politici, deve continuare. Dobbiamo mantenere la guardia alta. Giulia Nassange sarà cittadino onorario di Ferrara. Accolta all'unanimità dal Consiglio Comunale. La proposta del Movimento 5 Stelle esulta il consigliere Tommaso Mantovani, secondo cui la vicenda pare a noi lontana, ma in realtà riguarda da vicino il concetto di democrazia e diritti civili. Aggiunge Mantovani, la cui vera voce sono la libertà di pensiero e di informazione, ha detto il pentastellato su questa accoglienza, appunto l'unanimità da parte del Consiglio Comunale. Sarà dedicata alla vita e le parole di Natalia Ginzburg la conferenza di Daniela Cappagli in programma mercoledì 4 ottobre alle 17 in Biblioteca Bassani. Sentiamo l'autrice, cofondatrice di Fare Diritti. Daniela Cappagli racconta la vita e le opere di Natalia Ginzburg, un appuntamento organizzato nell'ambito di un'iniziativa che parla di donne e di diritti. Sì, dunque parlerò di Natalia Ginzburg, nell'ambito di questa iniziativa organizzata per fare diritti e nel ciclo di incontri le donne scendono in biblioteca. Natalia Ginzburg nella duplice veste di scrittrice, ma anche di donna che nella sua vita ha impersonato i diritti. Per parafrasare il nome del nostro gruppo che è Fare Diritti io direi che la sua vita è proprio Essere Diritti perché non solo gli ha Essere Diritti e anche Essere Diritti nella linea della parità di genere perché lei ha scritto romanzi che hanno sempre delle eroine delle donne come protagoniste, quindi nella duplice veste di donna che si è occupata dei diritti come scrittrice, come politica, come drammaturga e nel suo Essere se stessa che è sempre stata aderente ai diritti in cui credeva. Quindi ho scelto questo personaggio perché mi sembra particolarmente importante per essere l'emblema di una nostra iniziativa sulla parità di genere. Appuntamento dove ora e soprattutto a chi è rivolto? Dove questo è rivolto alle donne ma anche agli uomini perché ovviamente senza l'altra metà del cielo la parità di genere non c'è. Ed è alla biblioteca Bassani di Barco alle ore 17, mercoledì, mercoledì 4 ottobre ore 17. Cambiamo adesso totalmente argomento, parliamo di sport, delle ore calde in casa Spali in cui dopo l'esognero dell'allenatore Mimmo Di Carlo alla guida dei Biancozzurri ora c'è Leonardo Colucci annunciato martedì e arriva dal Juve Stabia. Per noi al primo allenamento di Colucci al centro GB Fabri di Via Copparo c'era Alessandro Sovrani che ci racconta così questa giornata molto intensa. La società non ha perso tempo e ha già individuato il suo sostituto Leonardo Colucci che sta già allenando la squadra qui sui terreni del centro di Via Copparo. 50 anni, nato in provincia di Foggia con oltre 200 partite da centrocampista in Serie A e oltre 150 in Serie B. La sua carriera da allenatore è iniziata come secondo a Cesena, poi è passato alle giovanili del Bologna, ha avuto un periodo in cui ha avuto modo di lavorare anche al fianco del responsabile del settore tecnico della società bianco-azzurra Filippo Fusco. Poi è iniziata la sua carriera da tecnico professionista, ha guidato il Pordenone, la Vispesero, il Ravenna, il Picerno e la Juve Stabia. Sono 173 le sue presenze sulle panchine di Serie C. A lui si chiede di dare a questa squadra quello spirito, quella determinazione, quella convinzione che è parsa a venire meno in questa prima fase della stagione perché diciamoci la verità, riteniamo che il gruppo attualmente a disposizione di Leonardo Colucci abbia le qualità per cercare almeno di recuperare varie posizioni di classifica. Non diciamo di puntare al primato ma secondo noi questa squadra può fare molto meglio rispetto a quanto non si è riuscita a fare fino ad oggi. Parliamo adesso di appuntamenti, proseguono gli eventi della rassegna Unife per il Public Engagement. Giovedì 5 ottobre doppio appuntamento con terra, fuoco, acqua, aria e gli aperi scienza della prevenzione. Questi appuntamenti uno si tiene alle 16 alla Biblioteca del Barco e alla stessa ora, sempre alle 16, sempre giovedì 5 ottobre all'Orto Botanico in Corso Portamare. E con questo appuntamento di Unife è tutto. Finisce qui questa edizione. Vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale di Telestense.